Sì, 8 meno un quarto, ci vediamo là, glielo dico anche al primario. Aspetta che sta qua, sta qua, basta, aspetta, a non gridare, sta qua, ma glielo dico. Vabbè, ci vediamo al congresso, dottore, te lo scusi, un attimo, ehi, ti richiamo, ciao, ciao. No, no, non ti richiamo, lui ha detto quello, ti richiamo, Maria, aspetta il mio, aspetta il mio. Dottore, ho un problema serio, sto facendo pure discussione con me la moglie da stamattina, che vai dal dottore, vai dal dottore, ti ho trovato, sto parlando, sto parlando, ma io è chezzale forte. Sto parlando, c'ho un problema serissimo, non riesco a dire Federico, sono malato, malatissimo, sicuramente una malattia, non lo so. Ah, ti senti malato perché, di di nuovo? Federico. Sì, sei guarito. Come sei guarito? Alla grande, vai, l'hai detto bene. L'ho detto bene? Di di nuovo. Federico. E vedi, sei guarito, avanti sei guarito. Ma ne ha già le forze delle provarie, hai sentito, ora ti faccio dire da lui, aspetta, di, 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 signore è guarito. Hai visto che sei guarito? Ora vengo con lui e festeggiamo la guarigione. Fai presto, apri il Federico e prendi due birre. Stiamo arrivando. Sì, ciao. Sono ghiacciate? Tutto quello che sarà nel mio Federico, tutto ghiacciato. E va a casa. Che marca è il Federico? È della Zoppas. Giallo. Albiz pizzeri! Albiz pizzeri! Abba, ambiente! Albiz pizzeri! Abba, забra,rendola! Abba, 술. Abba, soli, partie! debout! Grazie a tutti.